siamo giunti alla sesta una buona moneta per cavalli di buoni quattro anni sul miglio due cavalli non corrono il cinque di Rotman se il sei di Rino Jet ne rimangono in dieci due tre legati al rapporto di scuderia e viene a mancare l'altro rapporto di scuderia perché Rino Jet non corre Ramadan Jet Antonio Di Nardo Tufano Mania il più gettonato al totalizzatore allineamento completato ottima la prima fila via la macchina galoppa Raskin in ronco numero 7 c'è lotta serrata per il comando con Wright IRLF che viene superato da Radiosa Sergio e la Radiosa sempre Radiosa più che mai a Commandard Operation 13 e mezzo il lancio nelle prime posizioni Raffi di BL poi Rising New Star sposta prontamente Wright IRL ci sarà un freeway classico e infatti il Vincenzo Luongo con Wright IRL al comando arriva a bomba Ramadan 37 e 400 Ramadan sull'errore di Radiosa parcheggia terza ruota invece per Ryan Gar e ora punta in avanti il Ramadan 600 in 45 e mezzo Ramadan prosegue nel suo sforzo sta superando l'avversario e siamo al completamento della piegata o quasi il mezzo medio iniziale con il Ramadan al comando in un minuto abbondante si viaggia intorno al lunedì 16 e ora Robin Kaff rimane in asino al vento con Raskin in ronco rimesso nella sua scia si va di fronte Ramadan timbra il chilometro in 1,15 e mezzo 14,8 di frazione 500 alla meta cavalli che affrontano la curva finale Ramadan in vantaggio frazione di fronte in 14,2 1,29,7 tre quarti di miglio Robin Alsalki di dentro Wright IRL terza ruota che si affaccia un momentino Raskin in ronco Ramadan sostenuta a lunga prende un po' di vantaggio il Ramadan al comando si libera Rai Tiar Rai Tiar è incisivo va su Ramadan Ramadan in vantaggio Rai Tiar ci prova Ramadan in vantaggio non c'è più tempo tu fanomania Ramadan terzo un ottimo Raffi DBL 1,59 1,14,4 continua il magic moment della tu fanomania Tony Young Tony Atti insomma di tutto di più ha fatto paura Rai Tiar ma non c'era più tempo di nardo braccia frusta qualche calcetto pure lo porta al palo 2,45 Rai Tiar ha la grande per la prossima non ne parliamo cresce Raffi DBL in una categoria che non sembrava sua una terza moneta da Circoletta Arcobaleno pensate idan per la prossima